Funziona Pogba Ottimo il fraseggio Le trovo spontaneo Un intervento Adesso dobbiamo rivedere Sono molto intransigenti Anche ieri sera abbiamo visto un'entrata dura di Boateng Rosso diretto Qui stiamo a vedere sicuramente Un fallo in quella zona del campo così violento Vediamo bruttissimo Giusto Anche se ha preso leggermente la palla Ma non c'entra nulla Se lo perde bene Non puoi fare un'entrata del genere Assolutamente Di foca magari Guarda guarda Ha rischiato la caviglia E protesta anche Ma secondo me non si è reso conto Ma non si è reso conto Grazie a tutti Grazie a tutti